Salve Salve signor Natale Signora io avrei bisogno di una tovaglia antimacchia perché ogni volta che sporco le tovaglie mia moglie mi sgrida e delle tappeti perché ogni volta che lavi i piatti se sporco mi vuole ammazzare Un attimino che chiedo Simona? Simona! Dimmi Abbiamo delle tovaglie antimacchia dei tappeti antimacchia per il signor Natale altrimenti la moglie si arrabbia e va a finire che lo picchia? Sì abbiamo sia le tovaglie antimacchia che i tappeti antimacchia e digli al signor Natale che se gli servono abbiamo pure le palle di Natale in questo in questo